ragazzi prima che cominci il video lasciate un like condividete come dirò anche io nel video ma ragazzi guardatelo fino alla fine perchè è successa una cosa incredibile e quindi ragazzi vi lascio a voi buona visione e bene ragazzi tutti ma no che cacchio ho detto e ciao a tutti ragazzi ah ecco buona visione a tutti i miei popolini iscritti al mio canale ragazzi finalmente dopo tre tentativi sto riuscendo a farla intro ragazzi finalmente non c'è più la intro perchè sto reccando da ragazzi dall'altro account però oggi ragazzi voglio fare un rank ragazzi in arena sul secondo account ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate un like condividere attivare la campanellina per non perdervi nessun altro video per resto ragazzi e beh lo sapete già buona visione ok ragazzi eccoci sul bus per la prima partita ragazzi perchè hanno messo il puntino di domanda su floresta hanno cambiato no 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 non potete cambiargli il nome oddio pure porco pacifico ragazzi sta per diventare quasi arancione cioè guardate è qua tre millimetri diventa arancione oh se riesco a conquistare la torre forse ah uno ma oh ragazzi vabbè intanto gli sono fatto uno kill eh si quell'altro è scappato l'uno no no non c'è il boss questo cosa ah ok ah si qua oh ah rato ragazzi c'è un altro no si sta curando cacchio ok ok ragazzi l'ho subito kill c'è un altro speramento ma mi lasciate una volta liberi no beccati questo qua se lo senti zio cacchio ragazzi c'è un veloci raptor 2 2 no però c'è anche un tizio ok ragazzi è il momento di approfittarlo ok ragazzi è spettato purtroppo lo scudo oh no no ok ragazzi ma te sei matto no 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 ho fatto un'azione e arrivano i veloci raptor di tanta legge mi hara c'è ragazzi ma ma questa partita boh dopo la cosa che ho fatto ragazzi tipo quella kill direi che la revolver me la posso tenere no eh oh ma buonasera signore non mi ha fatto mi ha fatto prendere un colpo sento spari non l'ho sentito male però vorrei prendermi alla top così almeno faccio un bel po' di punti però non lo so ok ok raga lo pusho 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 dai dai stai 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 no hai il fucile più muriola dai no ok mi son rotta ah pure la top easy non c'è nessun altro nessuno vuole assaporare la mia ira no ok no mi lascerò stare per questa volta anche perché raga non c'è più nessuno veramente l'ho visto non sono ah vabbè nel frattempo becca di questo oh raga ho beccato uno veramente ok qua gli faccio no non ha servito niente perché deve essere ricaricata al massimo sta fermo buono buono mamma mia raga ma chi sono con l'arco l'ara croft ma dove sono tutti ah ok raga vinisco alla festa ok questo qua ci ha visitato e se ne è andato ma così ha così poca roba c'è c'è c'ha tre armi raga questo c'è non è finita però la gente occhio eh occhio raga maledetto dove va questo buonasera signore mi ha fatto un po' spaventare eh niente buonasera oh ok dammi il tuscar oh cacchio raga cos'era raga io non sono pirla ho sentito l'auto attivarsi no ma vedete raga che non sono pirla allora ok raga raga bello sto spaz perfetto raga ora non so se da ora in poi editerò però lì potrebbe esserci uno non lo so no però no ragazzi mi sei dove cacchio sono tutti gli altri cosa sono sti rumori invece che che cacchio hanno aggiunto i rumori su fo vabbè non che mi stupisca però la safe qua ragazzi easy raga andiamoci subito subito instant c'è spuglio potrei usarlo non lo so ragazzi non lo so ragazzi sono indeciso però provo provo dai ok veloce bravo uh la si stanno sparando uh raga top 5 buono raga scusate se ogni tanto nel video farò tipo però un po' di catarro raga io provo ah 1 1 1 per sicurezza non so ora se c'è però ragazzi intanto che boh se no non c'è spuglio ditemi nei commenti se volete che provi un oh cacchio ma non mi lasciano neanche fare una frase che palle dai volevi no l'ho lisciato devo stare ragazzi alle parti dove c'è il ferro perché sono su le strutture poi dai raga l'ho arato l'ho arato però anche lui ha arato me vabbè quello liscia pure la pozza raga ritornato folle no ragazzi da ma da dietro come da dietro ah ma sono in due ah vabbè dai raga non ci posso credere era una bella partita dai eh vabbè vi dicevo ragazzi prima che qualcuno mi interrompesse oltre al fatto che ho fatto due divisioni in una partita ah vabbè dicevo ragazzi scrivete nei commenti se volete che inizi un po' portare come si dice video horror una specie di serie di tv di cose del genere perché ogni tanto su internet sto scoprendo cose horror che in questi giorni non conoscevo ragazzi quindi ragazzi per noi è tutto e oggi anche tutto quindi ragazzi come sta facendo lei via quelli che insultano e via tutti quei dislike quindi ragazzi iscrivetevi al canale e lasciate like se no fate la fine in quella scopa e noi ragazzi ci vediamo ciao ciao